Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di monete di valore. Bene ragazzi, per gli amanti delle monete d'argento, come per lo scorso video dove vi ho mostrato l'oncia in argento puro di Sonic, oggi vi faccio vedere due monete sempre in argento puro di Street Fighter invece, altro famosissimo videogioco, colorate e sempre da un'oncia puro. Vuol dire che in ciascuna di queste monete è presente l'argento puro per 31,1 grammi. Vi faccio vedere un attimino come sono fatte le monete e poi parliamo anche del loro valore. Iniziamo da Ryu. Ryu è stata la prima moneta emessa per questa collezione. Se vai a vedere dei video un po' più vecchi, inizialmente avevo acquistato esclusivamente la moneta senza colore. Poi ho deciso di comprare quella colorata perché a mio avviso è davvero molto molto più bella. Moneta coniata all'inizio dell'anno, marchiata Capcom, ma coniata per conto di Tuvalu che è sempre una di quelle piccole isolette vicine all'Australia. Quindi moneta dove nel retro troviamo la regina Elisabetta II, valore nominale 1 dollaro e poi notiamo la scritta UNOZ 9999 argento e poi anno 2022. Quindi si tratta di una moneta in argento puro da 31,1 grammi che mostra uno dei protagonisti della saga di Street Fighter. Quindi per tutti gli amanti di questo genere è la prima moneta della serie. La moneta, come dicevo prima, è uscita all'inizio dell'anno, mentre qualche mese dopo è uscita la seconda moneta della stessa serie. Moneta dedicata a Chan-li, altro personaggio protagonista di Street Fighter. Anche qui troviamo il marchio Capcom, ruotiamo la moneta e il retro praticamente è identico a quella di Ryu. Quindi troviamo sempre la scritta Queen Elizabeth II, lo stato che ha fatto coniare la moneta, ovvero Tuvalu, e poi il valore nominale 1 dollaro. E come sempre ci viene ricordato che si tratta di una moneta in argento, AG, del 2022 da UNOZ 9999. Questa è proprio la sigla che ci fa capire che si tratta di una moneta da un oncia di argento puro. Cosa dire di queste monete? Allora, innanzitutto se siete amanti del famoso cartone animato, videogames, fumetti, è uscito un po' di tutto su questa saga. E dovete averle in collezione proprio come ho fatto io. Se volete risparmiare qualcosina dovete prenderle senza il colore. Però, a mio avviso, se si deve fare l'acquisto si deve fare quello più bello e sicuramente, almeno per il mio punto di vista, quello più bello è quello dove troviamo queste monete colorate. Valore di mercato. Valore di mercato attuale per Ryu è intorno ai 45€. Mentre per Chan Lee, che è uscita successivamente, il prezzo è leggermente più alto. Parliamo di circa 47-48€ per ciascun pezzo. Per ogni unità, ovvero per ciascuna di queste monete, esistono davvero pochissimi pezzi. Ovvero si tratta di una tiratura molto limitata. Infatti ci sono soltanto 5000 esemplari di questa moneta e 5000 esemplari per quest'altra moneta. Quindi diciamo che non è proprio facilissimo trovarle in vendita, proprio perché i pezzi coniati sono molto pochi. È più facile trovare in vendita quelle non colorate. E cos'altro? Al momento, visto che sono presenti su Ebay, però non so quante ne abbia il venditore. Quindi, se vi interessano, magari siete ancora in tempo per fare il vostro acquisto. Non mi resta che salutarvi e magari lasciate un commento e ditemi se queste monete vi piacciono, se vi piacciono colorate o se preferite, come mi è stato anche già detto, la moneta in oncia senza il colore, quindi senza questa sorta di smaltatura, che invece, secondo me, ne aumenta davvero il fascino. Sicuramente ci saranno altre monete che proseguiranno questa serie, quindi usciranno nuove monete e non so dirvi quando. Sicuramente ormai l'anno è finito, quindi dovremmo aspettare il 2023 per vedere qualche altra moneta di questa serie. E niente, vi dico anche che ho già acquistato sempre di Street Fighter delle once di Fiji, che non mi sono ancora arrivate e quando mi arriveranno ve le mostrerò come sempre. Non vi resta che augurarvi buon collezionismo, un saluto a tutti, ciao!